Ciao a tutti, sono Gianluca. In questa lezione vedremo come poter includere un file php all'interno di un altro. Come prima cosa andiamo a creare un nuovo file php all'interno della nostra cartella php7. Facciamo un echo di un h1 e all'interno della pagina lezione.php facciamo invece un echo di un h3 come possiamo includere il contenuto di pagina 2.php all'interno di lezione.php. Possiamo utilizzare questi quattro costrutti include, include once, require e require once. Proviamo il primo include. Dato che un costrutto non sono necessarie le parentesi tonde e richiamiamo il file pagina 2.php. Salviamo ed aggiorniamo. Vediamo che visualizziamo sia le istruzioni inserite all'interno della pagina lezione.php che le istruzioni inserite all'interno di pagina 2.php. Proviamo a fare la stessa cosa con require e vediamo che sostanzialmente non cambia in questo caso. però proviamo a fare l'include di una pagina che non esiste. Aggiorniamo. Vediamo che abbiamo un warning. Anzi facciamo una cosa. Questo echo lo mettiamo dopo. Aggiorniamo. Vediamo che abbiamo un warning ma lo script continua senza problemi. Se invece facciamo require abbiamo un errore fatale e quindi lo script termina. Qual è la differenza? Possiamo intanto cancellare questo echo tra include e include once. Proviamo a fare per tre volte l'inclusione di pagina 2.php. Aggiorniamo e vediamo che il contenuto di pagina 2.php è incluso appunto tre volte. Facciamo adesso la stessa cosa con include once. Vediamo che nonostante abbiamo richiamato tre volte include once, il contenuto di pagina 2.php viene incluso una sola volta. Il comportamento in questo senso di require e require once è analogo. Bene, per questa lezione è tutto. Ci vediamo nella prossima lezione.